Una sconfitta a Chiuppano in Veneto e un successo casalingo contro Astia hanno caratterizzato questo inizio del girone di ritorno del futsalpistoia Gisinti nel campionato di Serie A2 di calcio a 5. Dopo un periodo avaro di risultati la squadra del tecnico Quattrini è quindi riuscita a tornare alla vittoria contro i quotati piemontesi. Tre punti che hanno allontanato Evandro e compagni dalle zone pericolose della classifica ridando entusiasmo a tutto l'ambiente. Una bella iniezione di fiducia per il finale di stagione. Abbiamo già iniziato il girone di ritorno con due gare molto importanti e ben giocate dalla squadra. Abbiamo perso la prima a Chiuppano, una sconfitta non meritata per quello che abbiamo fatto nel campo. Subito rimessa in gioco sabato contro Lasti che la squadra ha fatto una grande partita e siamo riusciti a raggiungere i tre punti. Quindi credo che abbiamo un girone di ritorno importante e abbiamo tutte le carte regole per fare molto meglio di quello che è stato il giorno dell'andata. Emiliano Biagini è anche l'allenatore della formazione femminile che milita in Serie C e che recentemente si è giudicata la Coppa Toscana ottenendo il pass per dai finali nazionali di Coppa Italia. La squadra femminile ha vinto questa Coppa Toscana. Abbiamo una squadra molto molto organizzata, una squadra che lotterà fino in fondo per raggiungere gli obiettivi che sono quelli di raggiungere perché no la Serie A, anche se non è facile visto che anche per quanto riguarda la femminile il giorno dell'andata non è stato dei migliori, però abbiamo anche lì le carte regole per far bene e per arrivare in alto e quindi questo vogliamo.